GDPR e nuove sfide dettate dalla digital transformation stanno moltiplicando le opportunità per i partner, per gli operatori che operano nel mercato della security. Ma quali sono gli ambiti su cui vale la pena che si concentrino in questo momento? Gli ambiti sono diversi e molteplici. Al di là del GDPR quindi di elementi legati alla compliance che si stanno un po' esaurendo in termini di attenzione iniziale ma adesso c'è da iniziare a lavorare sul serio perché va in vigore. Parliamo di IoT quindi tutto il mondo dell'automazione industriale, parliamo di cloud, quindi di argomenti e di tematiche ce ne sono veramente diverse. I partner devono avere una vista chiaramente un po' a 360 gradi perché tutti questi elementi tra di loro sono comunque legati e pertanto è necessario che vada a staffarsi per adeguare la propria offerta e aggredire il cliente, aggredire chi ne ha in senso buono partendo da un concetto di assessment passando poi per tutto quello che è la parte integrazione di sviluppo di progetto. La spinta verso la logica dei servizi obbliga gli operatori a trasformare le proprie competenze. Come li aiutate in questo percorso evolutivo? Li aiutiamo con il concetto del security fabric che poi tanto concetto non è, ovvero la nostra piattaforma permette ai partner di poter offrire sul mercato un insieme di soluzioni che riescano a soddisfare le esigenze di cui si parlava poco anzi. Quindi al di là dell'offerta è che noi ovviamente ci preoccupiamo di allargare il più possibile e per questo stiamo facendo investimenti massivi da punto di vista degli R&D, li sosteniamo, sosteniamo i nostri partner anche con i piani di formazione adeguati e con il programma di certificazioni che mette in grado il comparto tecnico di poter sviluppare progetti complessi e anche decisamente particolati. La logica di go to market di Fortinet è sempre stata molto incentrata sul canale. Quali sono le novità 2018 per i vostri partner italiani? Abbiamo diverse novità. Abbiamo in pancia lo sviluppo del nuovo programma di canale che vedrà la luce all'inizio del 2019. Introdurremo poi tutta una serie di elementi a supporto dei nostri partner, quali supporti di marketing più evoluto, quindi con automazioni che permettano loro di andare sul mercato in modo più veloce e più efficace e poi produrremo una spinta notevole chiaramente anche sugli altri mercati che esulano un po' dalla network security e che sono quelli che abbiamo citato prima, quindi cloud e OT sui quali stiamo facendo diversi investimenti e a breve usciremo anche con soluzioni che aiuteranno i nostri partner chiaramente a cogliere opportunità in questo settore.